Già 5.000 euro raccolti a fronte dei 14.000 che servono come sostegno ai familiari delle vittime del sisma, costretti dalle ultime sentenze a pagare pure le spese legali. Una campagna lanciata dall'Aquila per la Vita e sostenuta dal Comitato Familiari Vittime del Sisma e dall'Associazione Avus, vittime universitarie del sisma. L'Aquila per la Vita ha predisposto un conto bancario sul quale stanno arrivando pian piano le donazioni da persone di tutta Abruzzo, non solo da cittadini e cittadine aquilane. Un bel segnale decisamente. Sul conto sono arrivate anche delle donazioni da parte dei politici appartenenti a diversi partiti, a dimostrazione di quanto la questione sia effettivamente bipartisan. Giorgio Paravano, ci eravamo visti qualche settimana fa per l'inizio di questa raccolta a sostegno dei familiari delle vittime del sisma. Dopo le ultime sentenze, come sta andando? Voi ogni tanto fate un bilancio di quella che è stata questa iniziativa che comunque sta avendo una buona risposta. Sì, siamo soddisfatti. Stanno rispondendo non soltanto i cittadini dell'Aquila, ma da tutta la regione. Questo veramente è un segnale estremamente positivo. In pochi giorni abbiamo superato abbondantemente la quota 5.000 euro. Stiamo continuando a ricevere donazioni un po' da tutti, da persone semplici cittadini e cittadine. Anche alcune istituzioni, devo dire, stanno versando sul conto corrente intestato ai familiari delle vittime del 6 aprile. È una cosa che ci riempie di orgoglio anche come Aquilani, devo dire. Una città solidale si sta dimostrando tale, solidale al di là delle polemiche, al di là delle sentenze, solidale con chi ha avuto un danno importante, cioè perdere il bene più prezioso, perdere un figlio.